Cavalieri e dame, bentornati nel nostro podcast Medioevo Fa Storia. Io sono Giovanni Pietrobelli e questo è l'episodio dedicato a Carlo Martello e la battaglia di Poitiers. Siamo circa nell'anno 689 d.C. e nella vecchia Europa nasce il piccolo Carlo, che in futuro verrà ricordato come Martello, ovvero il piccolo Marte, dio della guerra. Figlio di Pipino II, maestro di palazzo per Austrasia e Neustria dei Regni Franchi e della sua concubina, il giovane vuole ricevere il titolo del padre, ma si vede ostacolato dall'essere sostanzialmente un bastardo e grazie alla madre di Pipino viene imprigionato, mentre il nipote, a solo sei anni, riceve la carica di maggiordomo. Ah, non pensate che maggiordomo all'epoca avesse lo stesso significato di oggi. Sostanzialmente, il maggiordomo o maestro di palazzo che sia, era una specie di reggente, per intenderci, faceva il lavoro del vero re dei Franchi. Due anni più tardi, Carlo è libero e con i ribelli d'Austrasia riconquista il titolo, annettendo Neustria e Aquitania, fino a diventare l'uomo più potente dei Franchi, senza però esserne il sovrano, il quale al contempo stava perdendo il suo potere. Facciamo ora un passo avanti fino al mese di ottobre del 732, quando Carlo, in soccorso al duca d'Aquitania, si trova ad affrontare l'incursione degli arabi, che dopo essersi stanziati in Spagna, cercano di espandere il loro territorio verso nord. Sì, perché sicuramente saprete che gli arabi, o mori, come erano definiti all'epoca, avevano ormai conquistato la maggior parte della Spagna del tempo. Lascio quindi la parola ad Antonio, che si presenterà e ci spiegherà come si è svolta questa famosa vicenda, oltre ad aggiungere qualche particolare. L'esercito arabo-berbero è ormai alle porte di Tours, Aquitania, con due obiettivi. Raziare la basilica della città, ed espandere il dominio islamico del governatore Abd al-Rahman. Carlo Martello venne in soccorso di Oddone, in fondo, il nemico del mio nemico è mio amico, ma ad una condizione, comandare completamente l'esercito equalizzato. Questo esercito era piuttosto variegato. Nell'accampamento avremmo potuto notare Franchi, Gallo-Latini e Borgognoni. Ma non presero parte solo guerrieri dal territorio franco. Bensì, scesero da nord persino guerrieri germanici, fisigoti, alemanni e sassoni, senza scordare alcuni manipoli di guerrieri dalla foresta nera. Per quanto nel nostro immaginario collettivo lo scontro sia avvenuto tra un francese in cotta di maglia e cervelliera, sì, lo so che non sapete che è un elmo, che fa sferragliare la propria spada contro la scimitarra di un arabo avvolto in un turbante bianco, è capitato invece di trovare un guerriero germanico, con pitture da guerra e asce, che combatteva un perpero senza armatura. Perché sì, uno dei più grandi svantaggi dell'esercito arabo, infatti, fu la mancanza di armature pesanti. La strategia degli eserciti islamici, utilizzata innumerevoli volte, fu la tattica della finta fuga, utilizzata spesso dai mongoli e dalle popolazioni degli Urali. La tattica consisteva nel far avanzare l'esercito, spesso composto da piccoli reparti di fanteria e di cavalleria leggera. Dopo una breve schermaglia, l'esercito eseguiva una rischiosissima finta ritirata, dando quindi le spalle al nemico, il quale avrebbe inseguito l'avversario e sarebbe caduto in un'imboscata, alla merce degli arcieri e dei giavellotti. Proprio per questo, l'esercito arabo contava in pochissime unità, provviste di armatura pesante. La cavalleria e la fanteria, invece, impegnate nella manovra, erano equipaggiate in modo leggero, soprattutto la prima, che era munita pure di cavalli robusti e lungilinei, ovvero i cavallucci arabi, certamente di molle meno importante rispetto ai cavalli europei. Sempre parlando di cavalleria, ma spostandoci nello schieramento franco, accadono delle riforme nei confronti del reparto sotto il dominio di Carlo Martello. Venne istituita la staffa e la lancia da impatto. La prima era già in uso nelle cavallerie arabe già da secoli, eppure in diverse cavallerie barbariche e longobarde. La staffa permetteva al cavaliere di eseguire colpi più incisivi e di avere più manualità con le armi. Da qui prese vita la famigerata cavalleria pesante, raffigurata in diversi libri, come ad esempio nelle leggende di Artù, e come dimenticare la carica dei roirri ma minastiritne e il ritorno del re. Equipaggiati con corazzi a scaglie e le nuove picche da cavalleria, questi temibili guerrieri erano destinati a dominare nei campi di battaglia, fino alle invenzioni della polvere da sparo, ovviamente. Ma non solo il coraggio e l'armatura contavano per divenire un cavaliere. Infatti l'attrezzatura e il cavallo ce li si doveva mantenere. Infatti chi possedeva almeno quattro mansi di terra era obbligato a partecipare come fante, mentre dodici mansi per la cavalleria leggera, per poi arrivare ad oltre i tredici, per la cavalleria pesante. Per quanto riguarda l'afanteria, i compattenti dell'esercito di Carlo Martello, essendo un'armata eterogenea, possedevano diversi equipaggiamenti e armature. Dai germanici in armature di pelliccia, ai franchi con le cotte di maglia. Per poi andare dai gallolatini, muniti di equipaggiamenti longobardi o in alcuni casi romani. Perché sì, per quanto l'impero fosse caduto da almeno due secoli, e non era insolito nell'altro Medioevo incappare in una lorica muscolata o una lorica segmentata, ovvero le tipiche corazze romane. La prima linea franca era composta da fanti muniti di un grande scudo a goccia, perfezionato nei secoli a venire, tanto da essere raffigurato nel razzo di Hastings almeno tre secoli dopo. Oltre che allo scudo a goccia, a goccia era tipico dei guerrieri franchi portare una francisca, ovvero una ascia dal manico relativamente corto, lanciabile in battaglia. Un guerriero, una volta lanciata, doveva recuperarla, per non compiere un atto di disonore. Al contempo, per i soldati arabi più superstiziosi, era un atto di disonore portare un'armatura pesante, poiché, come detto nel proverbio berbero, possa tu essere maledetto, come il franco che indossa la corazza perché teme la morte. Questo ci suggerisce quanto al tempo un islamico fosse sicuro di sé e non avesse paura di morire. A sud dei fiumi Klen e Vienne, i due eserciti arrivarono a portata di occhio, studiandosi. Diversi storici sono discordi su chi fosse in superiorità numerica e chi in inferiorità. L'unica cosa della quale sono certi fu che si studiarono a vicenda per almeno una settimana, rimanendo comunque fuori dalla portata di Freccio Giavellotti. Carlo Martello fece schierare la sua armata in posizione sopraelevata, con i fianchi protetti dai fiumi e dalla boscaglia. Schierò la franteria pesante in prima linea, con alle spalle i picchieri, un ibrido tra un muro di scudi, che ha visto Vikings se lo ricorderà bene, e una falange. Alle ali invece vi erano dei reparti di cavalleria, e, sempre parlando di cavalleria, Odone rimase con la sua nascosta tra gli oschi, in attesa del segnale concordato. Giusto per cogliere di sorpresa l'avversario eberico. Di conseguenza, gli arabi si schierarono in modo non troppo dissimile. La fanteria era schierata sulla via romana, mentre le cavallerie costituivano le ali. Oltre ai cavalli, è risaputo che l'esercito arabo portò diversi dromedari per il trasporto dei rifornimenti. E non solo. Infatti, l'odore pungente degli animali desertici faceva imbizzare i cavalli avversari. La formazione, quindi, era una classica mezzaluna, destinata alla tattica della finta fuga, con conseguente accerchiamento del nemico. Dopo sette giorni, lo scontro iniziò, con la carica delle cavallerie berbere, che attaccarono il muro di scudi, alternandosi con colpi di ingaggio e lancio di giavellotti. La formazione franca aveva una sola cosa da fare. Il sacrosanto dovere di resistere. La fanteria e cavalleria arabe continuarono ad attaccare, venendo anche sfoltite dai giavellotti e dalle asce da lancio dei guerrieri europei. L'avversario arabo tentò diverse volte la tattica della finta fuga, ma gli ordini di Carlo Martello erano chiari. Non abbandonare la posizione. Quando la cavalleria fu ormai decimata, Carlo Martello diede l'ordine a Oddone e ai suoi uomini di attaccare, sbucando dalla boscaglia, falciando l'esercito arabo dai fianchi. Il comandante Abd al-Rahman morì durante lo scontro per un colpo di ascia. La leggenda vuole che fosse inferto proprio da Carlo Martello. Giungendo anche alle conclusioni, lo scontro non fu determinante come si pensa. In fondo, i territori iberici rimasero sotto il dominio moresco fino alla famosa reconquista, e le scorerie arabe continuarono, tanto quanto le ripercussioni dei franchi. Lo scontro fu vitale per il destino dell'Europa? Contariamente da quello che si pensava fino a un secolo fa, no. Poi sappiamo, lo stare scritta dai vincitori. Anche se non sempre. Ad ogni modo, nel male o nel bene, Carlo Martello aggiunse un verso alla saga dell'Europa. Grazie ad Antonio per questa fantastica spiegazione. Oltre alla battaglia di Poitiers, è importante raccontare come il maggiordomo abbia creato il sistema feudale, con una semplice riforma agraria sostanzialmente. Confiscando terre e la chiesa, e dandole in mano alle più importanti famiglie di cavalieri, si poteva così ottenere la loro fiducia, e far sì che ognuno di questi uomini avesse la possibilità di mantenere almeno un cavallo. Lo abbiamo già sentito nel dettaglio da Antonio. Oltre a portare fedeltà verso il proprio signore. Dopo la sconfitta dei musulmani, Carlo Martello attese fino alla morte del re dei Franchi, Teodorico IV, per poter salire al trono illegalmente. Sì, perché non venne mai nominato un successore di Teodorico. C'è infatti un motivo per cui venivano chiamati re fannulloni in quel periodo. E quindi poter regnare indisturbato senza un vero e proprio titolo. Nessuno infatti osava imporsi su di lui. Sarà infatti il figlio Pipino III, detto in breve, ad ottenere il titolo di re, primo della dinastia dei Carolingi. Senza contare che poi il nipote, a distanza di una settantina d'anni, verrà addirittura incoronato a Roma, in Natale dell'Ottocento d.C., imperatore del Sacro Romano Impero. Vediamo se avete capito di chi si tratta. Siamo giunti alla fine di questo episodio di Medioevo Fa Storia. Diciamo che è stato il vero primo episodio di questo podcast. Sentitevi liberi di seguirci sulle nostre pagine Instagram e Facebook, dove vi terremo sempre aggiornati sulle news relative al nostro progetto. Oltre a questo, se vi va, lasciate un commento dove ci suggerite il prossimo spunto per il nostro podcast. Vi ringraziamo per averci seguiti. Da Giovanni e Antonio Ossequi. Ossequi. Oltre a questo, se vi va, lasciate un commento a questo, se vi va, lasciate un commento a questo, se vi va, lasciate un commento